L'ho fatto da giornalista, lo faccio da consigliere comunale. Dare voce a chi non ha voce, a coloro i quali subiscono le angherie dell'amministrazione comunale. Mi trovo a Taranto, Paolo VI, via Pietro Nenni, precisamente in una delle case di proprietà comunale affidate a persone le quali hanno bisogno. Condizioni a dir poco pietose. Mi trovo in uno di questi appartamenti. Vedete le condizioni in cui si trovano gli infissi. Stiamo parlando di una casa in cui c'è una signora di 71 anni, pensionata sociale, una signora che ha due protesi al ginocchio e che purtroppo è anche caduta a causa di questi infissi vergognosi. Caro Melucci, nella tua casa di Crispiano hai così gli infissi? Vedete, manca persino la maniglia. Parliamo di case comunali per le quali, coloro i quali ne fruiscono, pagano regolarmente. Vedete, prego la telecamera di inquadrare, questi sono tutti i bollettini, i bollettini che la signora paga per avere una schifezza di servizio. Guardate un po', me ne è pure la maniglia. Pensate d'inverno. Qui hanno dovuto mettere, il figliolo ha dovuto mettere una bacchetta, un adesivo per non far entrare acqua e spifferi e quant'altro. È una situazione penosa, non c'è la maniglia. Come si vede dalla ricevuta, nel 2021 il Comune, l'Ufficio Patrimonio ha preso atto della segnalazione, della sollecitazione che è stata fatta di intervento, ma dal 2021 ad oggi piove, entra vento, entra acqua, entra di tutto e l'amministrazione comunale se ne fotte evidentemente, se ne strafotte, scusate l'espressione, di questa condizione. Faremo un tour in tutta la casa per farvi vedere le criticità. Un vetro che per gli spifferi si è, per gli spifferi, per le botte di vento, visto che la maniglia è precaria ed è stata messa alla bella e meglio, si era rotto il vetro e la signora, i figlioli, hanno sostituito il vetro con del plexigas alla meno pencio. Guardate un po' come ci si riduce e gli soliti spifferi, entra l'aria, hanno dovuto mettere un po' di plastica per evitare. L'amministrazione comunale continua a infischiarsene di una persona di 71 anni che ha serie patologie e che è caduta peraltro in casa, eppure paga regolarmente. Non stiamo parlando dei furbetti, non stiamo parlando degli abusivi, caro assessore azzaro, assessore al patrimonio. Andiamo avanti. Vedete lassù, al di sopra del cassone, diciamo, della parte che contiene l'apparecchiatura della tapparella, sono state messe delle carte, dei cartoni, per contenere ovviamente gli spifferi, l'entrata di aria e vento. Siamo arrivati al punto che si sono messe, sono state messe le carte. Mora nel bagno, assessore azzaro, sindaco Meruccia, assessore azzaro al patrimonio, ma voi, il cesso di casa vostra, avete questo problema che non si può aprire la finestra? Come fate? Voi non penso che vivete così. Guardate un po', la signora vive così. A questo problema dovrebbe fare fronte, dovrebbe risolverlo il comune di Taranto. E a proposito di maniglie, guardate un po', quest'altra maniglia. Cosa sono? Barricati in casa? Come fanno? Guardate che casino che si crea per dover aprire. Guardate, una persona anziana. È stata fatta la richiesta al comune, vi ho fatto vedere la ricevuta, quindi la PEC e quindi la ricevuta della PEC, l'amministrazione ha acquisito la segnalazione. Dal 2021 ad oggi, nulla. Settembre 2021, nulla. Io non lo so come possano vivere le persone in questa condizione. Non riesco a capire. È passato oltre un anno da quella PEC. Nulla, nulla, nulla. Però Melucci va a fare politicamente il paraculo, si fa vedere bello, si fa vedere splendido con Taranto, città europea, i giochi del Mediterraneo. Avrei portato qui i vertici. Quelli che qualcuno chiama assalti, che erano solo strumenti di difesa del cittadino, li sto riprendendo. Mettetevelo in testa. Politicamente non avrete tregua, cari amici di Melucci e Company, e caro Melucci, politicamente parlando, sul piano della civiltà, della democrazia e del rispetto. Confronto dialettico duro, ma sempre civile. Giusto per chiarire il concetto. La gente vuole risposte, questa famiglia paga. Questa famiglia, lo facciamo rivedere, vedete questi? Sono bollettini che vengono pagati. Non sono abusivi, non sono furbetti. Questo è un contratto di assegnazione dell'immobile. Vedete? Vedete? Assegnato. Non sono i furbetti. Guardate. Caro Melucci, sai come si dice a Taranto? Acchiana scuse vatin. Che fai meglio? Trova una scusa e dimettiti. Vai via. Perché i danni che questa amministrazione ha provocato, soprattutto alla povera gente, non si riescono a contare. È una cosina udita. È una vergogna. Tutto posso tollerare nella vita. Ma non una persona che vive con una pensione sociale, che con dignità paga, paga i bollettini e chiede solo il rispetto del proprio diritto ad un'esistenza dignitosa, che voi avete negato. Cosa ancora più assurda è che mancano i riscaldamenti. Melucci, Azzaro, voi come vivete? Le vostre mamme, i vostri papà, i vostri anziani, voi li lascereste al freddo? Io, i miei, quando erano vivi, non ho mai pensato di lasciarli al freddo. E in questa abitazione non esistono i riscaldamenti. Cosa mai vista nel 2022? Vergogna. Vergogna. Senza riscaldamenti. Una casa comunale con una persona anziana con invalidità conclamate, certificate. Vergogna. Una signora che paga. Vergogna. E allora pretendo risposte precise dal sindaco Melucci e dall'assessore al patrimonio Gianni Azzaro, facciamo nome e cognome per la signora Minosa Delfino, che è assegnataria della casa comunale, dell'alloggio Popolare Comunale, sito in Paolo VI, in via Pietro Nenni 3A. Nome e cognome. Intervenite! Intervenite! E non trovate scuse, non ve lo consento.